Ciao ragazzi e benvenuti anche questa settimana in questo nuovo appuntamento di iPhone Italia, Hot News, la rubrica del giovedì con tutte le notizie più interessanti relative al mondo iPhone e al mondo Apple in generale. Non perdiamo tempo e iniziamo subito. Allora ragazzi, veramente tante notizie e tutte molto interessanti questa settimana. Partiamo intanto dal recupero della classica notizia ormai che io divido tra un Hot News e l'altro, cioè il rilascio delle nuove beta di iOS 9.3.2. Infatti vi avevo detto due settimane fa, guardate è uscita la 2 e ora probabilmente sarà uscita la 3, settimana scorsa vi ho detto è uscita la 3 e probabilmente è uscita la 4, oggi vi dico è uscita la 4. Probabilmente, non lo so se fino a quando questo Hot News andrà online sarà uscita una nuova beta 5, sinceramente non credo, o l'aggiornamento sarà disponibile per tutti. Per sicurezza controllate iPhoneItalia.com, scaricate la nostra applicazione così ricevete le notifiche in tempo reale per sapere insomma se tutte le ultime novità a riguardo queste news che vanno veloci, perché come vi ho già detto la settimana scorsa io per Hot News ho dei tempi un po' più larghi. Quindi beta 4 che è stata rilasciata, beta 4 che io ho in questo momento sui miei dispositivi e che finalmente su iPhone 6s ha corretto tutti i lag, tutti i frame drop soprattutto più che lag, che erano presenti invece nella beta 2, nella beta 3 E che appunto nella beta 4 sono totalmente scomparsi, finalmente perché mi stavo seriamente preoccupando, per il resto non ci sono altre novità lato utente. E parlando di aggiornamenti, un curioso dato rilasciato insomma in questa settimana da uno studio di analisti insomma, dichiara che la diffusione di iOS 9 ha raggiunto l'84%, Dall'altra parte quella di Android Marshmallow è ferma al 7,5%, in realtà questo non è nulla di nuovo, è un qualcosa che sappiamo, il problema della frammentazione su Android è uno dei problemi più gravi, perché ancora oggi escono dispositivi con Android 5.1 Lollipop, mentre Google ha ufficialmente rilasciato 6.0 Marshmallow per tutti i Nexus e sta già testando Android N, Quindi un problema che resta e che probabilmente è insolvibile per quanto riguarda l'ecosistema Android, che ovviamente ha più dispositivi, quindi è chiaro ci sono più marche, ci sono più telefoni rispetto a quanto riguarda l'ecosistema Apple, però è anche vero che se ha acquistato un determinato tipo di smartphone oggi con Android 5.1 Lollipop difficilmente col telefono vedrà aggiornamenti. Dall'altra parte iOS 9 è arrivato, lo sappiamo, su telefoni anche molto vecchi ormai, bisogna dirlo, vecchi, come iPhone 4S, chissà se arriverà addirittura iOS 10 su iPhone 4S, ma la vedo dura, però insomma l'84% dei dispositivi Apple iOS in generale mai prodotti dall'iPhone 2G a iPhone 6S e ad iPhone SE e oggi su iOS 9. In settimana Apple ha diramato una nuova nota per quanto riguarda gli sviluppatori e per quanto riguarda il protocollo IPv6, che a partire dal 1 giugno insomma tutte le applicazioni nuove o aggiornate che verranno inviate per l'approvazione ad Apple dovranno includere. Quindi Apple ha annunciato in vista della WWDC 2016, in realtà l'annuncio in partenza era stato dato un anno fa, quindi gli sviluppatori hanno avuto un anno di tempo per adeguare le loro app al nuovo standard, al nuovo protocollo IPv6, ma siccome forse molti non si sono ancora dati una mossa, Apple ha ricordato a tutti quanti di aggiornare quanto prima le applicazioni, e appunto che dal 1 giugno le app che non avranno il supporto all'IPv6 non verranno più accettate su App Store. Parliamo ora di notizie un po' da gossip, in settimana Apple ha affrontato una questione molto curiosa, infatti in Cina ha perso la proprietà del marchio iPhone, che è stato registrato da un'azienda che si chiama Xintong Tiandi, che realizza portafogli, portamonete, portachiave, cinture, rifiniture per mobili in pelle, finta pelle, insomma qualcosa che non ha nulla a che vedere con Apple, su questi prodotti è stampato il marchio iPhone, che Apple appunto non possiede più nel territorio cinese e i legali di Cupertino sono già al lavoro perché vogliono riconquistare questo marchio, che è uno dei marchi più forti della storia in generale, il marchio iPhone, e infatti i legali di Cupertino hanno dichiarato che il loro obiettivo è garantire che l'esperienza dei clienti non sia compromessa da aziende che cercano di trarre profitto utilizzando i propri marchi, insomma una questione di sicuro molto più appunto legata alla proprietà intellettuale e del marchio iPhone, vedremo come andrà a finire, speriamo non si realizzi un nuovo caso Apple vs Xintong Tiandi che andrà avanti per mesi. E parlando sempre di notizie curiose, ve ne hanno già parlato nel podcast Claudio e Giovanni, un uomo è entrato in un Apple Store vestito da Gesù negli Stati Uniti e è stato arrestato, ecco, la notizia è questa qui, nella giornata appunto di, una giornata della scorsa settimana, un uomo vestito già da Gesù si è presentato come Philly Jesus ed è entrato in un Apple Store in Philadelphia, rifiutandosi poi di uscire è stato appunto bloccato dagli uomini della sicurezza, il nome del tizio insomma è Michael Grand, così ora potete andare a deriderlo pubblicamente, ed è un ragazzo di 29 anni che, udite udite, crede di essere il figlio, di Dio. Prendete questa notizia per quello che è per nulla di più insomma. Secondo il Time, iPhone è il prodotto tecnologico più influente di sempre e come dare torto insomma a questa affermazione, non solo appunto l'iPhone rientra nella classifica dei 50 gadget tecnologici più interessanti, più influenti nella storia, ma addirittura in questa classifica rientrano ben 5 prodotti. Al primo posto appunto troviamo l'iPhone che viene seguito poi dal Sony Trinitron e dal Macintosh al terzo posto. Poi più in basso troviamo l'iPod al nono posto, l'iPod insomma ora magari non sarà più così interessante, ma quando ero giovane io insomma, molto giovane, era uno dei prodotti più richiesti senza dubbio. Poi troviamo l'iPad che occupa la 25esima posizione, pensavo un po' meglio per l'iPad sinceramente, e l'iBook alla 38esima posizione. Insomma una lista interessante che appunto analizza un bel po' di prodotti, se volete insomma conoscere tutti i prodotti in questa lista, tutti i gadget più rivoluzionari del mondo tecnologico trovate l'articolo completo su iPhoneItalia.com. Importanti novità in questa settimana sono arrivate per quanto riguarda Apple Music, in realtà ne abbiamo una sola concreta e tanti rumor per quello che sarà Apple Music, soprattutto dopo iOS 10, dopo il nuovo OS X. Allora, intanto Apple Music ora viene offerto ad un prezzo ridotto per gli studenti, però non in Italia, solo negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Germania, in Australia, in Danimarca e in Irlanda. Adesso in pratica gli studenti, che insomma dovranno provare in qualche modo di essere studenti, e questo non si è capito come potrà essere fatto insomma, riceveranno la possibilità di acquistare un abbonamento ad Apple Music ad un prezzo ridotto, non 9,99€, non 10€, ma 4,99€. In realtà si parla di dollari, però poi se il servizio, se lo sconto studente arriverà anche in Italia, probabilmente la conversione sarà alla pari, perché oggi la conversione è alla pari. Insomma, 5€ al mese, 5$ al mese, per un servizio come Apple Music, a cui credo che molti di voi si siano abituati, io mi sono abituato, spendere 10€ al mese sì, può essere tantino, però ho riscontrato tanti lati positivi in Apple Music, tra l'altro c'è anche su Android, quindi lo utilizzo anche su Android, però effettivamente da studente, se potessi pagare anch'io 5€ a breve, mi farebbe non poco gola la cosa. Dai creatori di Siri sembra essere in arrivo un nuovo assistente vocale, in particolare i due creatori, Doug Kittlaus e Adam Chayer, sono appunto le due menti che hanno sviluppato Siri, poi acquisita da Apple, perché Siri in sostanza all'inizio non era una tecnologia sviluppata all'interno da Apple, ma appunto arrivava dall'esterno, adesso i due creatori di Siri affermano che ci sarà questo nuovo assistente di nome Viv che farà molte più cose di Siri e molto più di qualsiasi altro assistente in commercio, secondo quanto hanno dichiarato le due persone. Insomma, se chiedo a Viv di ordinare una pizza al Pizza Chicago più vicino al mio ufficio, l'assistente interviene e mi chiede se mi piacerebbe aggiungere qualche condimento particolare. Insomma, l'idea è un po' quella di riprendere ciò che sta facendo Microsoft con i bot integrando il tutto in Cortana, ecco, nulla di nuovo, però essendo appunto le stesse menti di Siri è facile che Apple possa strizzare loro l'occhio e magari dire ragazzi, perché non portiamo qualcosa del genere anche in iOS o su S10? Io mi aspetto grandi miglioramenti per quanto riguarda Siri, appunto, non dico per forza un'integrazione con i bot, ma di sicuro una maggiore assistenza da parte dell'assistente nelle prossime versioni di sistema. Vi ho parlato di Apple Music, ma mi sono scordato di continuare sul discorso Apple Music, perché su Apple Music ci sono un bel po' di novità. Intanto Apple Music sarà probabilmente ridisegnato sia per quanto riguarda iTunes sia per quanto riguarda iOS a breve, in particolare alla WWDC. Le novità dovrebbero includere una nuova interfaccia grafica con un design molto più minimal e senza effetti di colore e traslucenze, il che non mi piacerebbe tantissimo. Ci saranno colori molto vicini al bianco e al nero, scale di grigi, arriverà il supporto al 3D Touch in più azioni, verrà semplificata la sezione per te, dove vengono consigliati brani, playlist e album. Non ci saranno invece modifiche per Beats 1, ridimensionato un pochino Connect, che Apple ci ha provato di nuovo a fare una specie di social network, ma non fa proprio per lei. Il tab New invece sarà modificato e quello mi dispiacerebbe perché il tab New è uno di quelli che uso di più per scoprire nuova musica, ma arriverà un tab Browse in cui probabilmente potremo non solo cercare la musica di nostro interesse, ma anche comunque vedere le nuove uscite. Quindi un bel po' di aggiornamenti in arrivo per Apple Music che saranno tutti legati ad iOS 10 e al nuovo OS X e in particolare al nuovo iTunes, che tra l'altro è stato già svelato in alcuni screenshot, insomma per ora non si notano grandi novità, si vede soltanto un nuovo menu contestuale, insomma una barra laterale fissa un po' ridisegnata, piccole novità, però di sicuro a giugno ci saranno importanti novità per Apple Music. TSMC sarebbe già al lavoro per quanto riguarda la produzione del chip non A10, A11 per quanto riguarda l'iPhone del 2017, quello che potrebbe chiamarsi iPhone 7S o iPhone 8 come dicono gli ultimi rumor. Infatti se la produzione del chip A10, che sembra comunque destinata tutta e solo a TSMC, sicuramente già in corso perché per la presentazione di iPhone 7 manca pochissimo, si parla appunto del chip A11 che verrà introdotto negli iPad e negli iPhone del 2017, dovrebbe essere un processore che sfrutta il processo di produzione a 10 nanometri e sul quale per ora non si sa veramente nulla, di sicuro sarà più potente della 9, di sicuro sarà più potente della 10 che vedremo appunto a settembre in iPhone 7. iPhone 7, che ci colleghiamo subito, in questa settimana nonostante le parole di Tim Cook che ha dichiarato che ci saranno importantissime novità per quanto riguarda la serie iPhone e non solo, tutta la pipeline dei prodotti Apple, Tim Cook in un'intervista ha proprio annunciato che Apple sta lavorando a tecnologie che oggi non conosciamo e che non sappiamo di volere ma che un domani diventeranno indispensabili. Un qualcosa molto simile a ciò che diceva Jobs, è anche vero appunto che Jobs queste cose le ha dette dopo aver presentato queste tecnologie, di sicuro Tim Cook l'ha fatto anche per ispirare di nuovo un po' di fiducia soprattutto per quanto riguarda il mercato azionistico di Apple ma di sicuro tutto ciò lascia un attimo spiazzati in senso positivo perché noi sapevamo invece di un iPhone 7 che ci sembrava poco interessante un iPhone 6 senza connettore jack, forse sì impermeabile con una doppia fotocamera esteticamente discutibile, stesso design beh, qualcosa forse potrebbe cambiare intanto alla fine potrebbe esserci il cavetto jack su iPhone 7 o meglio l'ingresso jack perché? Perché è stata svelata da una fonte piuttosto affidabile su Weibo è stato individuato da NowhereElse.fr che è un sito veramente che sbaglia raramente in tema di anticipazioni relative ai prodotti Apple è stato svelato questo componente interno di iPhone 7 questa parte inferiore del telefono, si parla chiaramente di componenti appunto interne in cui si vede sì il connettore lightning, sì altre parti insomma interne del telefono ma si nota chiaramente anche la presenza di un connettore jack in tutto e per tutto la scheda, questa parte interna del probabile iPhone 7 sembra differire parecchio da quella del 6S motivo per cui io nell'articolo che ho scritto su iPhoneItalia.com ne ho parlato io di questo rumor ho pensato se c'è un cambiamento interno a livello di componenti, di organizzazione delle schede con ogni probabilità ci sarà un cambiamento anche esterno quindi forse un iPhone 7 con un design diverso da quello del 6 e del 6S potrebbe essere possibile allo stesso tempo ci sono altre novità per quanto riguarda iPhone 7 tutte positive perché la non rimozione del cavetto jack, dell'ingresso jack per molti è una notizia positiva però forse un po' più negativa è questa perché sull'iPhone 7 secondo quanto è emerso alla fine non ci sarà lo smart connector si era parlato di uno smart connector anche su iPhone 7 però Apple a quanto pare l'ha provato ha realizzato dei prototipi con smart connector ma alla fine ha scelto di non includerlo nell'iPhone 7 definitivo praticamente lo smart connector su iPhone 7 avrebbe consentito o la ricarica magari quando il telefono non sarebbe stato sarebbe stato in ricarica tramite il connettore lightning che quindi si pensava a cuffie, earpods, lightning non si poteva o meglio ecco quando mettevate le cuffie nel connettore lightning non potevate ricaricare il telefono lo smart connector secondo quanto era emerso poteva fungere da ricarica un po' in stile Apple Watch per l'iPhone 7 oppure per collegare accessori, tastiere insomma alla fine però questo smart connector potrebbe restare almeno per ora esclusiva degli iPad Pro per iPhone forse ci sarà ancora da attendere oppure arriverà solo sugli iPhone più grandi o sull'iPhone Pro vedremo e siamo arrivati all'ultima notizia di questa settimana che ho tenuto per ultima in realtà non è una grandissima notizia però riguarda un argomento molto a cui voi fate molta attenzione la batteria di iPhone 7 per quanto riguarda la batteria di iPhone 7 ci sono o al meglio sembra ci siano buone notizie perché su iPhone 7 potrebbe integrare una batteria leggermente più grande e quindi più performante rispetto a quella montata sugli ultimi iPhone parliamo di una batteria che su iPhone 7 da 4,7 pollici sul piccolo avrà ben 1735 mAh dico ben perché dato che Apple è tornata indietro addirittura con iPhone 6s e dato che comunque l'ottimizzazione software di iOS c'è quindi le batterie non servono batterie da 3000 per durare insomma quanto i competitor di Android 1735 mAh può essere più che soddisfacente mentre una batteria da quasi 3000 da 2810 mAh potrebbe arrivare sull'iPhone 7 Plus rispettivamente appunto la modifica non è eccellente diciamo se guardiamo all'iPhone 6s o meglio se guardiamo all'iPhone 6 c'è un piccolo miglioramento rispetto a quanto abbiamo visto invece con iPhone 6s in realtà però insomma si parla anche di un iPhone 8 di un iPhone 2017 del famoso iPhone 2017 che sembra una rivoluzione almeno viene spacciato così in cui potrebbe esserci una batteria ancora più potente insomma il futuro delle batterie su iPhone promette bene con insomma le dovute proporzioni e anche questa puntata di Hot News ha promesso bene insomma su molti su molti campi ormai siamo vicino all'estate in men che non si dica tra una cosa e l'altra WWDC poi ci andiamo andiamo in vacanza insomma torneremo praticamente già con iPhone 7 pronto alla presentazione vi ricordo che iPhone 7 con ogni probabilità verrà presentato nella prima al massimo nella seconda settimana di settembre bene ragazzi io sono Andrea Cervone vi saluto vi ringrazio per aver guardato questo video noi ci risentiamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti